ciao a tutti questo è il podcast di pagella politica io sono tommaso canetta e io sono carlo canepa nella puntata di oggi ci occupiamo di una serie di figuracce che hanno collezionato alcuni dei principali politici italiani parlando di questioni collegate alla pandemia partiremo da nicola zingaretti l'ex segretario del partito democratico e presidente della regione lazio per poi passare al leader della lega matteo salvini e quindi concludere con il presidente della regione campania vincenzo de luca anche lui da pd allora iniziamo da zingaretti l'ex segretario democratico ha parlato della variante inglese della covid 19 e della sua contagiosità ascoltiamolo oggi una variante inglese 40 volte più contagiosa di prima allora carlo che verdetto abbiamo dato a queste parole di zingaretti e perché per questa dichiarazione l'ex segretario del partito democratico si è meritato una panzana pazzesca perché sappiamo che di varianti inglesi si parla ormai da diversi mesi da dicembre per lo più quando si è scoperto che appunto nel regno unito si era diffusa in maniera molto veloce la cosiddetta variante b 1 1 7 che aveva portato poi il paese a rientrare in un nuovo lockdown ha fatto alzare di moltissimo numero delle ospedalizzazioni anche quello dei decessi ora come sappiamo grazie al lockdown e anche i vaccini il regno unito sta uscendo da questa forte ondata di di epidemia ma perché i dato il dato comunicato da zingaretti è sbagliato diciamo che c'è ancora un po di incertezza su quanto sia effettivamente più trasmissibile la variante inglese rispetto alle precedenti in circolazione sia quasi certo che sia più contagiosa ma le stime dicono che la maggiore trasmissibilità sia compresa tra un circa un più 40 per cento e un più 90 per cento come si traduce queste queste percentuali un più 90 per cento un più 100 per cento circa vorrebbe dire che la variante sarebbe il doppio più contagiosa rispetto a quelle precedenze e non certo 40 volte che equivalrebbe a una trasmissibilità più elevata del più 3900 per cento è probabile ma non ne siamo sicuri che zingaretti volesse dire che questa variante aveva una maggiore trasmissibilità del più 40 per cento ma come abbiamo visto anche su questa su questa percentuale c'è un po di incertezza che cosa rende ancora più improbabile la dichiarazione del del presidente della regione lazio beh se pensiamo ipotizziamo come attualmente è che il coronavirus in italia abbia un un indice di rt no che quello che abbiamo imparato dirci quanto è contagioso il coronavirus un indice rt pari a 1 circa visto che ormai la variante inglese è la più diffusa del nostro paese oltre 9 su 10 ce l'hanno di tra i positivi se fosse che la variante inglese è 40 volte più contagiosa dei precedenti vorrebbe dire che ogni contagiato ne contagia in media su volte altri 40 che evidentemente è impossibile perché nel giro di pochi giorni più o meno tutti ci saremmo presi ci saremmo presi il il virus per questo motivo nonostante sia vero che la variante inglese sia più contagiosa di quelle precedenti abbiamo dato a zingaretti una panziana pazzesca perché ovviamente il dato riportato è fortemente esagerato e scorretto e direi per fortuna veniamo ora al leader della lega matteo salvini che di figuracce ne ha collezionate ben due negli ultimi giorni partiamo dalla prima che è relativa al plasma iperimmune un argomento di cui nell'ultimo anno a momenti alternati abbiamo sentito parlare tantissimo tra l'altro soprattutto da salvini che cosa è successo l'otto aprile scorso nell'istituto superiore di sanità ha pubblicato un comunicato stampa in cui riporta i risultati di uno studio che ha condotto insieme all'aifa per capire se il plasma delle persone guarite dal coronavirus sia uno strumento efficace per curare invece chi il coronavirus se le prese sta combattendo la covid-19 il campione è stato nello studio è stato contotto su quasi 500 pazienti di cui ben oltre 300 provenienti dalla toscana in cui si sono divisi in due gruppi e quindi di questi malati la metà è stato dato il plasma di chi era guarito dal covid all'altro no quindi è stato fatto uno studio clinico randomizzato per usare il termine tecnico e si è ahimè scoperto che non c'è stato nessun beneficio del plasma né in termini di riduzione del rischio di peggioramento della malattia respiratoria né del rischio di morte nei primi 30 giorni perché abbiamo scritto un articolo in cui abbiamo detto che in sostanza salvini ha fatto una figuraccia perché lì della lega è da mese sin dalla prima ondata quindi da maggio 2020 che continua a ripetere che in realtà il plasma iperimmune efficace e che ci sia una sorta di complotto dietro a questa cura perché costerebbe molto poco rispetto agli altri farmaci che invece dette in maniera un po' implicita arricchirebbero le grandi multinazionali ma sentiamo una serie di dichiarazioni fatte da Salvini negli ultimi mesi a proposito proprio del plasma iperimmune stanno curando i malati di virus con il plasma donato da altri malati che sono guariti una cura che funziona il professor de donno ha denunciato in un'intervista il governo non ci chiede nulla l'istituto superiore della sanità se ne disinteressa perché molti cittadini a questo punto potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis siccome non c'è dietro un business di qualche industria farmaceutica siccome non ci sono appalti o guadagni milionari ebbene è meglio occuparsi di altro e semmai qualcuno risponda a roma in regione lazio del perché i cittadini di roma e del lazio non possono godere della stessa cura del plasma e della banca del plasma perché magari ci sono interessi economici diversi rispetto alla cura col plasma che è gratuito e democratico fammi ringraziare fra i tantissimi medici il dottor de donno dell'ospedale di mantova che ha già curato e guarito decine di persone grazie alla cura col plasma autoimmune che non sta simpatico a qualcuno probabilmente perché non costa abbastanza e non crea la fortuna di qualche casa farmaceutica però ha guarito col suo staff tantissime persone e lo ringrazio a nome di tutti gli italiani quindi in base ai risultati dello studio appena pubblicato da haifa e is sarebbe corretto sottolineare che il leader della lega diciamo si è fatto prendere un po troppo la mano negli ultimi mesi è anche vero che uno potrebbe obiettare che un solo studio non 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 è decisivo in realtà se andiamo a vedere la letteratura scientifica negli ultimi mesi si scopre che sono stati condotti altri studi in giro per il mondo e che le evidenze nei confronti dell'efficacia del plasma iperimmune sono sono veramente poche cioè ad oggi la stragrande maggioranza delle evidenze scientifiche ci dicono che per il momento il plasma non serve non serve non serve a granché per curare i malati di covid sono ancora in corso diversi studi tra l'altro alcuni anche finanziati dalla dall'unione europea quindi vedremo nei prossimi mesi se usciranno delle evidenze che ribalteranno metteranno in discussione quanto quanto fin qui scoperto in ogni caso al di là del singolo risultato dello studio qual è la lezione che salvini ma anche i nostri politici in generale dovrebbero far loro è quella di evitare di buttarsi per così dire a corpo morto su una su una potenziale cura innanzitutto per evitare di illudere la la i cittadini senza avere evidenze scientifiche solide e in più appunto perché bisogna essere in grado di capire che in un periodo come quello della pandemia e dell'incertezza in generale non necessariamente la scienza delle risposte dopo pochi giorni e anche singoli dottori che proclamano l'efficacia di cure come può essere quella dal plasma iperimmune vanno presi con la dovuta cautela senza ipotizzare chissà quali complotti contro 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 le persone malate infatti la figuraccia di salvini sono messa proprio nei toni che ha usato il leader della lega nel sostenere ma nell'aula del senato oltre che in tv e nelle sue dirette facebook che appunto a non si prende il plasma iperimmune non lo si usa come cura nonostante funzioni come abbiamo sentito perché ci sono questi interessi dietro di si vogliono arricchire le multinazionali ora che il leader del partito che nei sondaggi è la prima forza politica italiana adotti un linguaggio del genere in un momento drammatico come quello della pandemia secondo me è un fatto grave speriamo appunto che questa doccia fredda che peraltro non fa piacere a nessuno scoprire che il plasma iperimmune non funziona secondo appunto gli ultimi studi che abbiamo a disposizione speriamo appunto dicevo che questo serva di lezione a lui e a tutti perché davvero poi si fanno danni alle persone adottando questo tipo di retorica ma veniamo alla seconda figuraccia che ha collezionato salvini stavolta si parla di una cura che fortunatamente funziona eccome cioè i vaccini salvini ha scritto su twitter che cito è una roba da matti che lazio e campania due regioni amministrate dal pd e coincidenza vuole proprio da zingaretti e de luca di cui poi parliamo oggi dicevo per salvini è roba da matti che lazio campania abbiano detto di voler vaccinare i detenuti prima dei nostri anziani e dei nostri disabili ora subito gli è stato fatto notare dal garante dei detenuti che in realtà regioni come lombardia e veneto amministrate dalla lega avevano avviato la campagna vaccinale dei detenuti già a marzo ma noi siamo andati oltre e abbiamo scoperto qualche dato interessante che peggiora ulteriormente la posizione di salvini raccontaci tutto carlo esattamente prendendo i numeri alla mano abbiamo scoperto che dati aggiornati al 5 aprile risultavano vaccinati con una dose oltre 6.300 detenuti su oltre 52.200 in italia cioè circa il 12 per cento sul totale una percentuale leggermente inferiore al dato nazionale al 5 aprile avevano ricevuto almeno una dose circa il 13 per cento di tutti i residenti in italia ma che cos'è che c'è di curioso nei dati che ci ha comunicato il ministero della giustizia beh abbiamo scoperto che lazio e campagna il 5 aprile insieme a molise piemonte toscana e provincia ottono e volzano erano nella minoranza di regioni che non avevano ancora vaccinato nemmeno un detenuto in compenso in quella data la regiona che risultava aver fatto più vaccini ai detenuti di tutti in numero assoluto era proprio la lombardia governata dalla lega seguita da sicilia ed abruzzo anche queste due regioni governate dal centro-destra se poi guardiamo la percentuale dei detenuti presenti sul territorio regionale che hanno ricevuto il vaccino al primo posto al 5 aprile c'era l'abruzzo ma subito dopo era seguita dalla lombardia dalle valle d'aosta e dall'umbria in sostanza salvini faceva una polemica contro la decisione del lazio e la campagna ma in un certo senso questa polemica lì si è rivoltata contro perché numeri alla mano si è visto che i presidenti delle regioni esponenti del suo stesso partito avevano preso la stessa scelta diverse settimane prima insomma possiamo dire che anche in questo caso un bel toucher non fu mai scritto ma poi oltretutto anche come dire al di là dell'ha fatto la lombardia lo vuole fare il lazio e la campania i carceri sono per propria natura dei luoghi in cui mantenere il distanziamento che è necessario per fare prevenzione nei confronti dei contagi da covid-19 è quasi impossibile ora è vero che i detenuti devono scontare la pena che è prevista dalla legge ma la legge non prevede come pena che debbano aumentare a dismisura il rischio di venire contagiati quindi vabbè al di là delle polemiche secondo me anche in questo caso insomma si tendono a dare messaggi semplicistici a parer mio criticabili ma veniamo all'ultimo protagonista della nostra puntata di oggi il presidente della regione campania vincenzo de luca ascoltiamo le sue parole a proposito delle priorità nelle vaccinazioni ho finito di parlare mezz'ora fa stava in macchina con il commissario figliuolo gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni noi non intendiamo procedere per fasce di età esclusivamente cioè dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili a curare persone anziane ma lavoreremo su due piani lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta ecco perché in questo caso diciamo che de luca ha collezionato una figuraccia la campagna ma così come altre regioni non possono far di testa loro e decidere chi vaccinare senza seguire le direttive che arrivano dal a livello centrale perché diciamo che ci sono due livelli che gli impediscono ma non solo a de luca appunto ma anche agli altri governatori di andare per la loro strada due livelli di cui il più alto è quello della costituzione e come vedremo dopo anche delle disposizioni che non sono state decise dal dal precedente governo conte partiamo dal livello più alto la costituzione ci sono ben due articoli della nostra carta costituzionale che in un certo senso smontano sul nascere l'iniziativa di de luca e degli altri presidenti di di regione perché se andiamo a vedere all'articolo 117 fra le materie su cui lo stato ha la competenza esclusiva c'è proprio la profilassa internazionale in cui ricade anche la campagna vaccinale tra l'altro questo questo principio è stato ribadito di recente da una sentenza della corte costituzionale a febbraio scorso in cui si la corte costituzionale in sostanza aveva detto che la valle d'aosta non poteva fare di testa sua e aprire autonomamente in deroga quanto deciso lo stato centrale per quanto riguarda per esempio l'apertura dei negozi in più c'è anche un altro articolo della oltre al 117 della costituzione che è importante che quello è il numero 120 in cui appunto si regolamenta il rapporto fra stato e regioni e si introduce la cosiddetta clausola di supremazia citiamo la carta gestualmente qui si dice che il governo può sostituirsi a organi delle regioni delle città metropolitane delle province dei comuni nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica e qui rientra ovviamente la pandemia o quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali sembra un qualcosa di complesso di articolato ma in sostanza la carta dice che quando c'è in corso una pandemia per esempio quindi a rischio l'incolumità e la salute i diritti dei cittadini in questo caso lo stato può intervenire e di fatto bypassare le decisioni che vengono prese dalle regioni e non solo come vi ho anticipato però c'è anche una una disposizione votata e approvata quando al governo c'era ancora giuseppe conte con il pd 95 stelle che è un comma della legge di bilancio per il 2021 qui che cosa si dice si dice in maniera molto esplicita che il piano vaccinale deve essere sia attuato dalle regioni e dalle province autonome ma che in manca in caso di mancata attuazione del piano o di ritardo vi può provvedere il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus che in questo caso è il generale figliuolo in questo caso dunque se il governo dovesse arrivare a diciamo all'estrema decisione di arrivare allo sconto con regione e farle capire che non sta rispettando le regole messe in campo a livello nazionale di fatto regione potrà essere commissariata e la gestione della 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 vaccinazione passerà in campo allo stato centrale dunque in sintesi se la regione campagna andasse per la sua strada quindi conseguendo l'ordine priorità nazionale la campagna vaccinale lo stato potrebbe fare ricorso contro un'eventuale ordinanza regionale persino sostituirsi alla gestione regionale della pandemia quasi sicuramente vincerebbe di fronte a un giudice lo scontro appunto contro le amministrazioni regionali vedremo se nelle prossime settimane questa questo scenario sarà plausibile oppure se tutti i governatori si adegueranno finalmente a quanto stabilito a livello nazionale saranno vaccinati tutti i più anziani via via i più fragili staremo a vedere anche perché appunto de luca in particolare mi sembra sulla questione turismo aveva intenzione di fare queste isole vaccinati al cento per cento per salvare la stagione turistica campana è un obiettivo per carità politicamente legittimo però in questo caso come abbiamo visto il governo nazionale ha imposto invece una questione di priorità alla salute quindi alla tutela delle fasce più anziane della popolazione che sono quelli in cui l'incidenza dei dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva è più alta e come dire citando uno più saggio di noi combatti le battaglie solo quando sai di poterle vincere nel caso di de luca e degli altri governatori come ci hai spiegato così non sarebbe ma comunque staremo a vedere i prossimi sviluppi grazie carlo ed eccoci con la nostra rubrica di debunking dove oggi abbiamo simone fontana che ci parla di un documentario che gira su netflix che ha fatto molto discutere ciao simone ciao tommaso sì oggi parliamo di si spira sì che un documentario distribuito da netflix lo scorso 24 marzo e che ancora oggi risulta uno dei più popolari sulla piattaforma innanzitutto cos'è si spira sì è un film sulla pesca intensiva una sorta di viaggio di formazione lungo 90 minuti in cui il regista che è alita brizzi parte alla scoperta di ciò che viene definita pesca sostenibile ovvero quel tipo di pesca che almeno secondo la definizione delle nazioni unite soddisfa le esigenze del presente senza compromettere quelle della generazione futura si ispirasi come fa intendere lo stesso titolo delinea una sorta di complotto internazionale che coinvolgerebbe le organizzazioni ambientaliste e l'industria ittica con l'obiettivo di non contrastare il business della pesca ecco si ispirasi è stato al centro di numerose critiche a causa di una rappresentazione dei fatti e dei dati considerata un po distorta con le organizzazioni coinvolte che hanno denunciato manipolazioni e tagli nelle interviste in particolare il documentario si concentra su alcuni programmi di certificazione quelli che per intenderci spesso troviamo sulle scatolette di tonno che vengono descritte come al soldo di multinazionali che commercializzano prodotti marini il documentario denuncia anche il comportamento delle stesse organizzazioni ambientaliste che secondo il regista si occuperebbero quasi esclusivamente di per citare una frase cannucce buttate in mare cannucce di plastica chiudendo invece gli occhi su quello che è il reale problema della fauna marina ovvero le reti dei pescatori abbandonate quello delle attrezzature di pesca lasciate in mare è effettivamente un problema molto reale e molto urgente talmente urgente che sono le stesse organizzazioni ambientaliste a denunciarlo nell'articolo pubblicato su facta facciamo riferimento ad ad alcuni report molto approfonditi sul tema pubblicati da green peas e dal wf che sono appunto delle organizzazioni ambientaliste tra le altre cose si ispirasi è stato criticato per alcuni dati non esattamente precisi e presentati spesso senza fonte come abbiamo verificato il documentario cita ad esempio una ricerca secondo cui agli attuali livelli di pesca gli oceani si svuoterebbero entro il 2048 il dato è reale effettivamente e risale al 2006 ma è stato smentito l'anno successivo dallo stesso autore della ricerca che ha invece dichiarato come nel 2048 potrebbe e cito dare una festa a base di frutti di mare ciò vuol dire che nel 2048 la disponibilità di organismi marini sarebbe così ampia da poter giustificare una festa fatta di frutti di mare un altro dato impreciso riguarda le cosiddette catture collaterali ovvero tutti quegli organismi marini che finiscono nelle reti dei pescatori per sbaglio secondo il documentario questi errori ammonterebbero al 30 per cento del pescato totale ma i dati fao abbassano questa quantità al 9,4 per cento il documentario contiene diversi altri dati inesatti che troverete nel nostro articolo su facta ma ciò non deve farci pensare che gli oceani se la passino bene secondo le ultime ricerche entro il 2050 l'88 per cento delle riserve ittiche sarà sovrasfruttato cioè pescato in misura superiore alle sue capacità di riprodursi è una pesca collaterale vicina al 10 per cento come abbiamo visto è comunque ampiamente insostenibile agire è insomma fondamentale ma una narrazione distorta non aiuta di certo la causa certo diciamo che una storia solo perché viene raccontata molto bene come è il caso di questo documentario non vuol dire che sia vera allo stesso tempo il fatto che questa storia non sia interamente vera non vuol dire che alla base non ci sia un problema che invece come hai giustamente detto purtroppo è vero e come grazie simone e veniamo allora alla sezione dedicata a scienza e medicina con massimo sandal ciao massimo allora mi è capitata di recente sotto il naso una grafica che ho visto poi essere diventata virale sui social network in cui si mette a confronto il rischio delle possibili trombosi causate dai vaccini da strazeneca come ricordiamo ma adesso ci sono dubbi anche sul johnson and johnson rispetto ad altri fattori di rischio come la pillola anticoncezionale il fumo o la stessa covid 19 è un bell'esempio di informazione quindi come dire una cosa che siamo felici di vedere circolare o c'è qualcosa che non va ciao tommaso sì diciamo che una volta tanto sui social circola un messaggio di fondo corretto che insomma è una boccata d'aria fresca rispetto a quello che di solito vediamo noi di fatto quindi il messaggio è che vaccinarsi è sicuro o perlomeno molto meno rischioso di tante cose la grafica in italia circolata è una versione che è stata tradotta da una pagina facebook di divulgazione scientifica che si chiama close up engineering ma originariamente è stata creata dalla dottoressa maria leano ramos in portogallo e porta dei numeri che di per sé sono sostanzialmente corretti sul rischio di trombosi legati ai vaccini che sono se confermate pochissimi casi per milione rispetto ad esempio a 500 addirittura 1200 casi per milione legati alla pirula anticoncezionale o oltre 1700 casi legati al fumo o addirittura i 16 casi su 100 stavolta di trombosi legati alla malattia covid 19 però sai che a facta noi siamo dei gran pignori tommaso quindi abbiamo qualcosa da dire ma dai per una volta che abbiamo un contributo corretto che manda il messaggio giusto cioè sei casi su sette milioni di vaccini è un numero ridicolo e io trovo ridicolo che siano state prese delle decisioni di sospensione a fronte di ordini di grandezza del genere quindi perché accanirci su una cosa che invece abbiamo detto essere corretta ma perché bisogna intendersi un attimo su cosa vuol dire corretto ora lasciamo un attimo da parte il discorso della sospensione che è complesso ed è un altro discorso ma ora è vero che in media ma questa in media è una precisazione importante su cui torneremo vaccinarsi in media molto sicuro però ad esempio quando noi vediamo una grafica di questo tipo troviamo che in realtà confronta delle cose molto diverse perché ok noi diciamo trombosi ma quando diciamo trombosi attrappariamo di tante patologie il rischio di trombosi legato al vaccino è dovuto a un singolo tipo che è molto raro ed è anche piuttosto grave di trombosi che è quella dei seni venosi cerebrali mentre i numeri che riportano perfumo e pillola anticoncezionale riguardano quasi completamente altri tipi di trombosi che hanno gravità e incidenze differenti quindi è un po' un confronto mele con per per dire ma appunto abbiamo parlato di rischio medio ma quando diciamo rischio medio diciamo una cosa che lascia un po' il tempo che trova perché può addirittura anzi portare decisioni sbagliate perlomeno individualmente c'è chi ha fatto un confronto un pochino più interessante ed è il Winston Center per la comunicazione dei rischi dell'università di Cambridge nel Regno Unito e questi hanno analizzato il rischio di trombosi legato ai vaccini e vanno confrontato con i benefici del vaccino confrontabile ovvero in questo caso il numero di ricoveri in terapia intensiva che vengono evitati con la vaccinazione e li hanno divisi e questa è qualcosa importante a seconda della fascia d'età e a seconda di quanto circola il virus nella popolazione ora chi vuole vedere i numeri precisi può andare su facta dove li abbiamo riportati ma ad esempio è vero che il virus è quasi sempre molto più pericoloso del vaccino tra l'altro anche per le fasce giovani come i 30-40 anni però esistono dei casi limite come ad esempio le persone tra i 20 e i 29 anni in caso di bassa circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione in cui alla fine il rischio di effetti gravi è confrontabile o addirittura leggermente superiore per il vaccino questo sia chiaro non vuol dire che queste persone non debbano vaccinarsi o che il vaccino sia pericoloso per queste persone perché non teniamo conto di altri fattori come ad esempio danni indiretti che possono essere causati da SARS-CoV-2 come danni cardiaci che possono avvenire anche in persone giovani e in buona salute noi teniamo conto del fatto che comunque vaccinarsi riduce la trasmissione del virus e quindi la mortalità generale però ecco ci chiarisce che insomma non è tutto semplice come sempre ad esempio per queste fasce che sono molto poco a rischio per il virus magari una politica vaccinale accurata potrebbe decidere di aspettare di usare un altro vaccino con meno sospetti di effetti collaterali ecco quando si vogliono prendere decisioni serie non possiamo prendere semplicemente un numero singolo numero medio dobbiamo fare dei confronti accurati e prenderli caso per caso. Quindi insomma se passo questa grafica ai miei familiari su whatsapp o ai miei amici un po' scettici comunque magari li convinco o no? Qui si apre il secondo e principale il problema di questo tipo di confronti e questo tipo di dialettica che alla fine rischia di convincere soprattutto chi è già convinto. Ora noi sui medi abbiamo visto dei confronti probabilmente ancora più spericolati. Il 13 aprile il cervello farmacologo Silvio Garattini in un'intervista messaggero ha fatto dei confronti tra il rischio dei vaccini confrontandovi con i viaggi in aereo per esempio. Ma questo convince davvero la popolazione. Ora noi a Facta ci siamo fatti questa domanda e abbiamo parlato un po' con Giancarlo Struvroni che è un docente di comunicazione del rischio e abbiamo anche scattavolato un po' di line guida sia in italiano sia dell'organizzazione mondiale della sanità e questo ci ha insegnato un po' di cose. La prima è che quando noi percepiamo il rischio non lo valutiamo solo sulla base dei numeri e delle statistiche ma entrano in gioco anche molti altri fattori. Per esempio fa molta differenza per noi istintivamente se da sani prendiamo un vaccino per prevenire una malattia che forse in un futuro potremmo prendere o forse no o se invece prendiamo una medicina per una malattia che abbiamo già. Perché valutiamo in modo molto diverso l'utilità immediata della medicina in questo caso rispetto alla futura utilità di un vaccino per esempio. Questo a prescindere dal fatto che se è razionale o meno la psichia umana funziona in questo modo qua e quindi semmai è irrazionale non tenere conto di come funziona la nostra psicologia quando comunichiamo. Inoltre continuando su questo tono fa moltissima differenza per noi se il rischio è un rischio che ci vogliamo assumere volontariamente come appunto prendere un aereo o decidere di fumare una sigaretta rispetto a un rischio che ci viene imposto dall'alto socialmente o legalmente. Questo perché in realtà noi possiamo ritenere un rischio inaccettabile non perché sia un rischio particolarmente grande, non perché sia molto pericoloso qualcosa, ma perché non accettiamo che questo rischio per quanto piccolo ci venga imposto. Quindi da questo punto di vista non convince nessuno parlando di numeri perché non è una questione di quanto si rischia ma è una questione che viene quantomeno percepita come di equità o di giustizia. E non è una cosa che ci stiamo inventando di recente. È una questione che è alla base di molto, di quello che sta alla base del rifiuto sui vaccini, ma dico non da ora ma fin dal diciannovesimo secolo. Diciamo è una questione più emotiva di percezione che non razionale di numeri. Ma quindi come è meglio comunicare? Innanzitutto, una parentesi, quando diciamo che è una cosa più emotiva che razionale bisogna tenere conto che cosa vuol dire razionale perché ci sono anche appunto altri aspetti che entrano in gioco che appunto per qualcuno può essere razionale comunque anche la questione di principio a livello etico-politico mettere quindi in secondo piano la questione del rischio. Quindi insomma uno si assume un rischio per il nome di qualcos'altro. Per quanto riguarda la comunicazione, le linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità ci dicono che la cosa migliore non è mettersi dall'alto a snocciolare cifre. Piuttosto invece le istituzioni dovrebbero cercare di comunicare costantemente col pubblico e mantenere uno scambio di informazioni che permetta al pubblico di mantenere la fiducia nelle istituzioni. Questo perché sono le istituzioni, per esempio in questo caso, che ci dicono che il vaccino è sicuro e ci spingono a vaccinarci. E questo, va detto, è un po' il contrario di quello che per esempio è accaduto il mese scorso con AstraZeneca. Quando c'è stato tutto il caos di cui abbiamo parlato su Factor, sul podcast, sul ritiro del vaccino, l'AIFA prima ha seccamente negato il rischio e poi il giorno dopo ha ritirato il vaccino. E questo cosa significa? Che prima ha ignorato le preoccupazioni, invece di informare in modo trasparente i cittadini su quanto stava accadendo e su quali potevano essere i potenziali rischi in corso, e poi non sono state date praticamente spiegazioni di un comportamento che era apparentemente incoerente con quanto detto il giorno prima. E questa cosa ha danneggiato moltissimo la fiducia nelle istituzioni e quindi, di conseguenza, anche nel vaccino. Inoltre sappiamo che la campagna vaccinale, ma non solo, anche le terapie sulla Covid-19 sono ormai, che ci piacciono meno, oggetto di poverizzazione politica. Pensiamo a l'idrossiclorochina o anche ai monoclonali e a tutto il dibattito che viene fatto su questi. Insomma, per concludere, io non ho nessun problema con chi ha fatto queste grafiche, le diffonde o fa questi confronti, perché, insomma, finché siamo qui, pur per me va bene e sicuramente è tutto fatto a fin di bene. Semplicemente, ecco, non pensiamo che basti lanciare quattro numeri su Twitter, Whatsapp o Facebook per, tra virgolette, blastare chi è scettico e convincerlo. Quando vogliamo comunicare queste cose, quando vogliamo comunicare il rischio, dobbiamo fare attenzione a molti altri fattori e, soprattutto, non è che possiamo lasciare questo al buon cuore di chi scrive sui social, anche perché, sennò, diventa la gara fondamentalmente chi fa il meme migliore, ecco, piuttosto che la comunicazione corretta. E diciamo che sarebbe bene che ci fosse un altro tipo di comunicazione basata non soltanto sulle cifre, ma anche su molti altri fattori da parte delle istituzioni. E grazie Massimo, come non essere d'accordo. Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici. FACTA è il nostro progetto di debunking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false. Seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram. Per non perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usate per ascoltare podcast. Il podcast di Pagella Politica è stato scritto questa settimana da Tommaso Canetta, Carlo Canepa, Simone Fontana e Massimo Sandal ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Tommaso Canetta e questo era il podcast di Pagella Politica. Grazie a tutti.